L'ultimo saluto alla giovane Elisa si svolgerà oggi alle 16 nella chiesa dei Santi Angeli Custodi di Borgo Trebbia e sarà lutto cittadino, ma come ha spiegato il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, non si tratta di una semplice formalità istituzionale, ma di un gesto sincero che rappresenta l'abbraccio della comunità piacentina a tutta la famiglia nel ricordo di Elisa e nell'impegno collettivo a contrastare ogni forma di violenza contro le donne. Dalle 15.30 alle 17.30 dunque è prevista l'esposizione sugli edifici pubblici delle bandiere a mezzasta. Inoltre l'ordinanza comunale invita i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto dalle 16 alle 17, nonché ad osservare in tutti i luoghi di lavoro un momento di silenzioso raccoglimento durante lo svolgimento della cerimonia religiosa. Il rito avviene praticamente a un anno dal delitto compiuto dall'amico Massimo Sebastiani a Carpaneto. L'operaio è imputato al processo per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Non gli è stata contestata alcuna aggravante di genere nonostante Elisa sia stata uccisa, secondo la procura, perché indisponibile a una relazione con lui, non era infatti realmente la sua fidanzata.